Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a questo incontro di informazione sull'invito a presentare proposte 2023 del programma Erasmus Plus, in particolare dedicato ai partenariati, i partenariati di cooperazione. Io sono Laura Nava, sono il capo unità per il settore istruzione scolastica del programma Erasmus Plus e qui oggi durante il webinar interverranno i colleghi che si occupano di questa tipologia di progetti, dell'ufficio che si occupa di questa tipologia di progetti. Come sapete il programma Erasmus Plus è il programma d'azione dell'Unione Europea per contribuire al raggiungimento di alcuni obiettivi comuni europei degli Stati membri rispetto al settore dell'educazione della formazione di cui ci stiamo occupando oggi e con l'obiettivo ultimo di arrivare entro il 2025, diciamo la visione strategica dell'Unione, a uno spazio europeo dell'educazione dove attraverso attività di mobilità, di cooperazione e qui il programma Erasmus Plus svolge un ruolo importante, si arrivi a migliorare i sistemi di istruzione e di formazione attraverso la realizzazione appunto di uno spazio dove l'inclusione e la parità di genere siano una realtà, dove appunto sono presenti i sistemi di istruzione di qualità a partire dall'educazione pura della prima infanzia in su fino all'educazione degli adulti, attraverso una transizione verde, la transizione digitale, l'acquisizione delle competenze necessarie ovviamente, attraverso un'adeguata formazione iniziale in servizio dei docenti, degli educatori che hanno fatto importantissimo per appunto poter raggiungere questi ambiziosi obiettivi. Quindi diciamo tutti questi sono i pilastri che ritroviamo anche all'interno del programma Erasmus Plus, in particolare la sensibilità per la sostenibilità ambientale, la dimensione digitale, l'inclusione e la partecipazione attiva, la cittadinanza attiva e dico questo perché soprattutto questa tipologia di partenariate di cui andremo a parlare oggi devono in qualche modo ciascuno nel proprio ambito, ciascuno nel proprio piccolo, nel proprio grande affrontare queste tematiche prioritarie a livello europeo e aiutare e contribuire in qualche modo appunto a raggiungere questi obiettivi, a raggiungere lo spazio europeo dell'educazione. e come come forse avete visto già qualche informazione riguardo a questa azione, a questa misura è possibile scegliere varie tipologie di progetti in quanto a scopo, in quanto diciamo ambizione attraverso varie fasce anche di corrispondente budget per cui si tratta veramente di un modello di progetti, di partenariati che possono adattarsi a vari enti, a varie situazioni e a vari obiettivi più o meno ambiziosi. Va da sé che un progetto da partenariato da 400 mila euro deve essere un partenariato ben solido e che contribuisca effettivamente a raggiungere dei risultati innovativi, dei risultati di qualità. Per cui diciamo che in questa tipologia di partenariato di progetti, come vi spiegheranno poi le colleghe, è possibile la collaborazione fra soggetti diversi che possono essere sicuramente scuole ma anche enti locali, enti di ricerca, imprese, associazioni, tutti soggetti che è importante che collaborino tra di loro sempre per avere un impatto nel settore ovviamente dell'istruzione scolastica perché qui ci troviamo in questo ambito e per cui nei progetti si deve sempre avere in mente quelli che saranno diciamo i beneficiari finali del lavoro del progetto, dei risultati del progetto che sono le scuole, chi lavora quotidianamente nelle scuole, docenti, alunni e tutto ciò che ruota intorno al miglioramento dei sistemi scolastici di insegnamento. Quindi per questo è sempre importante se non coinvolgere le scuole direttamente nel partenariato comunque avere sempre bene in mente che quello che viene prodotto da questi progetti che andremo a finanziare deve essere qualcosa che concretamente che anche in prospettiva vada a migliorare i sistemi di istruzione, a migliorare l'insegnamento, a migliorare i nostri sistemi di istruzione. Questo è fondamentale e progetti che abbiano anche una previsione di avere un impatto nel tempo, che abbiano dei risultati che non si etauriscano con la fine dell'attività progettuale. Questo è importante perché l'Unione Europea, gli Stati membri investono tanti fondi nel programma Erasmus Plus, ha anche questa tipologia di progetti e per cui ci deve essere sempre un ritorno, un impatto in termini di risultati e di qualità. Questo per inquadrarvi un po' in che ambito ci troviamo. Io a questo punto ho l'onore di passare la parola alla dottoressa Grimaldi del Ministero dell'Istruzione che fa parte dell'ufficio, che è anche nostra autorità nazionale, dell'Agenzia nazionale e che con grande piacere accogliamo sempre nei nostri incontri per portare anche la parola del Ministero. Grazie. Grazie Laura. Buon pomeriggio a tutti. Come ha detto insomma Laura, il programma Erasmus Plus si inserisce nel contesto delle policy dell'Unione Europea e attraverso in effetti la sua declinazione in azioni chiave. Partecipare a un'azione chiave 2, quindi partecipare in effetti ad un progetto, ad un'attività di partenariato, significa inserire sicuramente insomma l'istituzione di cui oggi vi fate portavoce rappresentanti nel contesto dell'internazionalizzazione e consente comunque a ciascuno di voi di avere un impatto che sia positivo non soltanto all'interno dell'istituzione stessa e quindi sullo staff, sulle procedure, sui studenti, ma anche insomma di avere un impatto positivo all'esterno e un impatto che come ha ricordato Laura possa essere comunque sostenibile nel corso del tempo. Perciò in effetti io vi suggerisco di seguire tantissima attenzione questo Info Day e di presentare una proposta di sovvenzione. Insomma vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Grimaldi. Passo la parola alla collega Silvia Rettori, sì 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 Silvia Rettori è vero, la vedo inquadrata ma è venuto il dubbio, che inizierà a parlarvi di questa tipologia di progetto nel dettaglio, andremo poi a vedere anche il modulo di candidatura. Purtroppo volevamo farvi vedere il modulo direttamente online ma ci sono dei problemi sulle piattaforme comunitarie per cui ve lo faremo vedere in il file insomma del modulo di candidatura e ci sarà poi il momento di fare le vostre domande per iscritto e risponderemo ovviamente subito dopo. Quindi passo la parola alla dottoressa Rettori per iniziare a entrare nel vivo. Grazie. Buonasera a tutti, vi saluto brevemente. Prima di passare la parola alla mia collega Giuditta Giulianelli perché la presentazione generale sull'azione K2 e K220 nello specifico la fa la mia collega Giuditta Giulianelli. Con me ci rivediamo subito dopo e parleremo del modulo di candidatura, entreremo un po' più nello specifico del modulo di candidatura. Quindi intanto passo la parola alla mia collega. Grazie. Buon pomeriggio, sono Giuditta Giulianelli, mi occupo all'interno dell'agenzia Erasmus dei partenariati azione chiave 2, nello specifico i partenariati di cooperazione K220 settore scuola, quindi settore istituzione scolastica. Le agenzie nazionali all'interno del programma Erasmus più gestiscono le azioni decentrate, nello specifico per quanto riguarda il settore dell'istituzione scolastica noi come indire gestiamo l'azione chiave 1 che è la mobilità per l'apprendimento e l'azione chiave 2 che prevede i partenariati per la cooperazione. Quali sono le scadenze di questo anno 2023? Per la K1 la scadenza sarà il 23 febbraio alle ore 12 di Bruxelles, quindi diciamo a mezzogiorno. K1 quindi progetti di mobilità per l'apprendimento sia per gli alunni che per lo staff delle scuole e l'azione chiave e due partenariati per la cooperazione e lo scambio di buone pratiche che prevede due tipologie, i partenariati di cooperazione K220 che sono quelli di cui andremo a parlare nell'infodenti oggi che prevedono un'unica scadenza annuale il 22 marzo 2023 alle ore 12 in mezzogiorno e i partenariati su piccola scala K210 che prevedono due round, quindi due scadenze, la prima il 22 marzo e la seconda il 4 ottobre e sempre a mezzogiorno. Ci sarà poi una scadenza aggiuntiva della K1 per tutte le scuole che vogliono richiedere l'accreditamento e sarà il 19 ottobre 2023 sempre alle ore 12. Quali sono i paesi del programma Erasmus più i paesi che possono partecipare al programma? Sono innanzitutto i 27 stati membri dell'Unione Europea, qui abbiamo riportato tutto l'elenco, poi lo ritrovate anche sia nella guida al programma che all'interno del nostro sito e in più i paesi sempre che aderiscono al programma sono questi che vedete nel riquadro giallo, paesi che non fanno parte dell'Unione Europea ma che comunque aderiscono al programma e sono la Repubblica del Nord Macedonia, l'Iktestain, Serbia, Norvegia, Islanda e Turchia. Quindi tutti questi sono paesi che aderiscono al programma, sono paesi associati al programma. All'interno dei partenariati di cooperazione K220 è possibile la partecipazione non solo di questi paesi sopra menzionati ma anche dei paesi terzi non aderenti al programma o non associate al programma, solamente che chiaramente non potranno essere coordinatori, dovranno partecipare se sono inseriti in un partenariato devono essere almeno il quarto partner, quindi comunque ci devono essere tre paesi che aderiscono al programma e devono dimostrare un chiaro valore aggiunto al progetto, quindi deve esserci una motivazione forte della loro partecipazione all'interno di questo partenariato K220. Per quanto riguarda il Regno Unito, in seguito alla Brexit anche questo paese rientra tra i paesi terzi non aderenti al programma, quindi all'interno dell'azione chiave 2 K220 può prendere parte ma solo come paese non associato al programma. Quindi come dicevo anche prima, come è possibile accedere alla K2? La K2, Partnership for Cooperation, quindi partenariati per la cooperazione, si divide in due tipologie, partenariati di cooperazione K220 e i partenariati su scala ridotta K210, per cui ci sarà un infodei apposito il 23 febbraio 2023, sempre dalle 14.30 alle 17.00. Mentre oggi andremo a parlare dei partenariati di cooperazione K220. La prima cosa da prendere in considerazione in un partenariato K2 sono le priorità, cioè la prima cosa da fare quando si vuole iniziare una progettazione nella K2 è una scelta accurata delle priorità che trovate all'interno della guida al programma, elencate nel dettaglio, qui le abbiamo messe in maniera sintetica, abbiamo messo solo i titoli, però poi nella guida del programma avrete modo di leggerle in maniera più approfondita, diciamo da pagina 212, la versione in inglese da pagina 212 in poi. Sono previste le priorità orizzontali che sono queste che vedete nella slide, sono quattro, inclusione e diversità, transizione digitale, sostenibilità ambientale e cambiamento climatico e partecipazione alla vita democratica. Queste sono priorità orizzontali che vuol dire che sono trasversali ai vari settori che affronta il programma Erasmus, quindi indipendentemente dal settore in cui voi andate a fare domanda potete comunque scegliere una delle priorità orizzontali perché sono appunto trasversali ai vari settori. Nel settore scuola, visto che appunto i partenariati di oggi riguardano il settore istruzione scolastica, ci sono delle priorità specifiche di settore che sono 9, abbiamo riportato anche qui in maniera sintetica un accenno a quelle che sono le priorità del settore scuola, poi chiaramente l'invito è quello di andare a vedere nello specifico all'interno della guida al programma, quali sono le priorità in maniera più specifica. La prima è affrontare lo svantaggio dell'apprendimento e l'abbandono scolastico appunto all'interno del settore scuola, sostenere gli insegnanti e le altre professioni dell'insegnamento, lo sviluppo delle competenze chiave, promuovere un approccio globale all'insegnamento e l'approccio delle lingue, promuovere l'interesse verso le STEM e le STEM, poi c'è la priorità che fa riferimento all'ECEC, cioè ai sistemi di educazione della prima infanzia, quindi diciamo che si rivolge principalmente alla prima fascia del settore dell'istruzione scolastica, il riconoscimento dei risultati di apprendimento per i partecipanti che fanno mobilità transnazionali, sostenere gli innovatori nelle scuole e poi quest'ultima priorità che è stata inserita dalla commissione nel corrigendum della guida 2023 che è la versione del 21 dicembre 2022, la trovate sempre nel nostro sito e che è sostenere la risposta dei sistemi europei di istruzione e formazione alla guerra in Ucraina, quindi nello specifico se ci sono, cioè fa riferimento a quegli enti che ospitano dei migranti provenienti dall'Ucraina, quindi non se c'è proprio una scuola dell'Ucraina nel partenariato, ma se i paesi che partecipano al programma in qualità di partner o il coordinatore nel loro paese ospitano appunto migranti provenienti dall'Ucraina. Ci sono poi le tematiche trasversali che sono una cosa diversa rispetto alle priorità che dicevamo prima, che sono tematiche che è bene presente nella vostra progettazione, quindi indipendentemente dal titolo del vostro progetto, dalla tematica del vostro progetto o dalle priorità che voi andate a scegliere all'interno della candidatura, è un valore aggiunto, sarebbe auspicabile che ogni progetto affrontasse queste tematiche, quindi l'inclusione e la diversità, la sostenibilità ambientale, quindi diciamo l'aspetto del green, la dimensione digitale e la partecipazione alla vita democratica. e questi aspetti appunto è auspicabile che riguardino tutte le attività che poi andrete a fare all'interno dei vostri progetti e anche le modalità di gestione. Come si può impostare un buon progetto? Allora innanzitutto l'invito è quello di consultare oltre alla guida al programma che è un po' la base di partenza di una buona progettazione, anche l'handbook, poi più avanti nella slide abbiamo riportato il titolo preciso, comunque nella sezione risorse e strumenti trovate l'handbook ed è una guida metodologica molto importante perché è un grande aiuto nella progettazione, nella pianificazione delle attività e anche una guida appunto per stabilire una struttura solida del vostro progetto perché chiaramente se voi andate a fare una struttura ben fatta e una progettazione attenta, poi se il progetto verrà approvato chiaramente sarete diciamo aiutati nell'implementazione dell'attività perché avete già fatto una buona pianificazione. Quindi la prima cosa da fare sicuramente è l'analisi dei bisogni e degli obiettivi, quindi perché voglio andare a fare un partenariato K220, quali sono i bisogni degli enti che saranno coinvolti nel partenariato, quali sono le cose che io voglio andare a migliorare nel mio contesto territoriale, quindi questa è la prima cosa da fare, poi la definizione dei risultati di progetto, cioè quello che voglio andare concretamente a realizzare e i risultati di apprendimento. Poi c'è la fase di preparazione, quindi pianificare tutte le attività, sviluppare un programma di lavoro ben delineato, quindi non lasciare elementi al caso, ma pianificare tutto nel miglior modo possibile, nel miglior dettaglio possibile. Individuare il gruppo target e individuare anche le attività che voglio andare a fare, anche il gruppo target è molto importante perché una volta che so su quali persone voglio andare ad agire, su quali realtà anche del mio territorio voglio andare ad agire, chiaramente sarà più facile anche definire le attività che voglio implementare. Poi c'è la fase di implementazione delle attività, quindi poi per le candidature che verranno autorizzate e finanziate si passerà a questa fase, quindi alla realizzazione vera e propria delle attività e poi alla parte di follow up, quindi valutazione delle attività via via che vengono fatte, quindi prima della conclusione del progetto è importante che ci sia un monitoraggio e questo monitoraggio lo dovete prevedere ora in fase di candidatura, quindi prevedere in che momento magari andare a fare la valutazione, chiaramente non subito all'inizio perché magari le attività non sono ancora state fatte, però piano piano che vengono realizzate le varie cose è bene prevedere un monitoraggio perché se ci sono delle eventuali strutture si possono raddrizzare, si può riprendere il programma iniziale, oppure anche prevedere come risolvere eventuali criticità, come condividere i risultati una volta che saranno realizzati, quale sarà l'impatto del mio progetto sulla mia organizzazione, sugli antipartner ma anche all'esterno del partenariato e appunto queste quattro fasi poi sono delineate nel dettaglio anche non solo nella guida ma anche nell'handbook. Quindi i partenariati di cooperazione K220 sono dei partenariati che possono essere di innovazione o di scambio di buone pratiche o entrambe le tipologie e i risultati che voi andrete a realizzare all'interno di questi partenariati devono poter essere riutilizzati, quindi trasferibili anche ad altri enti che non fanno parte del vostro progetto ma che magari sono interessati al programma e vorrebbero magari utilizzare i vostri risultati anche se trattano di un'altra tematica, però comunque il modello che voi avete applicato è trasferibile anche in un altro settore. L'obiettivo è quello di aumentare la qualità delle attività delle organizzazioni coinvolte, sviluppare la capacità di lavorare anche a livello non solo locale, territoriale ma anche transnazionale e non solo nel settore per esempio istruzione scolastica ma anche collaborando con altri settori. Poi affrontare le esigenze e le priorità comuni nel proprio settore di riferimento, quindi nel nostro caso il settore della scuola e consentire il cambiamento sia degli individui che degli enti, delle organizzazioni coinvolte o anche a livello scolastico, quindi andare a impattare, andare a fare comunque una miglioria anche a livello sistemico, per esempio nel settore dell'istruzione scolastica portando nuovi approcci e chiaramente in proporzione al contesto di ciascuna organizzazione, chiaramente non tutti gli enti che si candidano hanno la stessa grandezza e la stessa capacità di avere un impatto enorme, ci sono anche realtà piccole ma in proporzione alla propria situazione è possibile comunque, è auspicabile che venga apportato il maggior impatto possibile. Qui troviamo una tabella riassuntiva dei punti salienti, diciamo formali, quindi di un partenerato K220, quindi come può essere composto un partenariato? Innanzitutto possono essere partner, qualsiasi tipo di organizzazione, quindi qualsiasi organizzazione, ente, istituto, associazione, eccetera, si attiva nel settore dell'istruzione scolastica. In un partenariato devono esserci almeno tre partner provenienti da tre paesi diversi aderenti al programma, anche perché altrimenti la candidatura non può neanche essere submittata, però c'è un numero massimo, quindi questo dipende chiaramente dagli obiettivi che volete raggiungere e dalle attività che volete andare a realizzare. Chiaramente il numero, più partner si coinvolgono, se uno ne coinvolge 10, 12, chiaramente poi diventa molto difficoltoso portare avanti un progetto, quindi non c'è un limite, però chiaramente bisogna vedere anche, fare una previsione di fattibilità. I partner, come dicevo prima, i partner di paesi non aderenti al programma, quindi quelli che non sono associati al programma, ma sono considerati paesi tessi, possono essere inseriti come quarto partner, quindi non possono rientrare nei minimi tre, ma possono essere inseriti dal quarto in poi, solamente si apportano a un valore aggiunto al progetto e comunque non possono essere coordinatori. È possibile prevedere anche dei partner associati che non sono inseriti formalmente nella candidatura come con l'OID per intenderci, con il loro codice, però comunque non ricevono fondi, quindi non rientrano nella distribuzione del finanziamento, però contribuiscono alla realizzazione del progetto e spesso servono anche da cassa di dissonanza sul territorio, servono per aumentare l'impatto delle attività, quindi comunque hanno un ruolo importante. Un partnerato K220 può durare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, la durata la scegliete voi all'interno della candidatura, in base alle attività che volete realizzare, agli obiettivi che volete raggiungere. La data di inizio progetto la scegliete sempre voi, potete scegliere tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2023, in quest'arco di tempo voi scegliete l'inizio e poi scegliete la durata e poi in candidatura come si vedrà poi la data di fine viene definita automaticamente in base all'inizio e alla durata. Quali sono le sedi delle attività? Quindi se voi all'interno del vostro progetto prevedete degli incontri, degli eventi, le potete realizzare all'interno delle sedi dei partner, quindi sia coordinatore che partner, oppure nelle sedi delle istituzioni europee, quindi non semplicemente a Bruxelles, ma nella sede dell'istituzione europea a Bruxelles, questo si è giustificato chiaramente, quindi deve avere un senso ai fini della vostra progettazione, oppure si possono svolgere anche in altri paesi che non fanno parte del partenariato, che questi paesi possono essere aderenti o non al programma. Chiaramente anche in questo caso la sede scelta deve essere giustificata all'interno della candidatura, però eventualmente potete decidere di fare delle attività di disseminazione, per esempio in conferenze che si svolgono in un paese che non è parte del vostro progetto, chiaramente sempre motivando adeguatamente in candidatura. Per quanto riguarda il budget, il coordinatore riceve il budget dalla propria agenzia nazionale, quindi la candidatura che viene presentata a noi IT02, agenzia italiana, viene presentata non solo a nome del coordinatore, ma anche a nome di tutti i partner, quindi è un'unica candidatura e se il progetto viene finanziato, l'agenzia nazionale eroga il finanziamento al coordinatore che poi dovrà ripartire il budget agli altri partner in base a quanto previsto in candidatura, quindi anche qui è molto importante fare una suddivisione adeguata del budget in candidatura, perché poi una volta passata la scadenza non si potrà più fare modifiche al budget, quindi è importante pianificare bene questo aspetto, a volte noi magari riceviamo delle richieste, alcuni coordinatori ci dicono, ma questo partner magari si è reso conto che non basta questi fondi e vorrebbe più fondi, però il tetto massimo del budget che voi richiedete in candidatura non si può alzare, quindi va previsto una suddivisione adeguata in questa fase prima della scadenza. Ci sono tre importi forfettari predefiniti che si chiamano l'AMSAM e che ora vedremo e sarà il coordinatore, quindi voi potete scegliere una delle tre l'AMSAM e quella è l'importo totale del vostro progetto, sarà poi il coordinatore una volta autorizzato e una volta che il vostro progetto diventerà beneficiario a gestire l'intero montare del finanziamento, quindi anche dal punto di vista della gestione e dal punto di vista poi di tutti i documenti da conservare è tutto a carico del coordinatore, ovviamente noi come agenzia stipuleremo un contratto con il coordinatore, però sicuramente si suggerisce che vengano fatti degli accordi finanziari tra i partner, anche già da questa fase, già prevedere come impostare questo aspetto perché poi se il progetto viene autorizzato è bene che appunto ci siano degli accordi tra i partner, sono suggeriti, non sono obbligatori ma sono suggeriti. La scadenza è il 22 marzo come abbiamo già detto, mezzogiorno, ora di Bruxelles. La candidatura, voi dovrete compilare i vari aspetti, le varie domande, rispondere alle varie domande che sono inserite in candidatura che poi vedremo dopo nella prossima presentazione e i criteri secondo cui verrà valutata la vostra candidatura sono questi quattro che ritrovate nella guida, nella guida appunto nella parte dei partenerati di cooperazione e qui le abbiamo riportati diciamo in maniera sintetica i titoli dei quattro criteri, però poi nella guida avete tutta la specifica di che cosa vuol dire andare a valutare la relevance, da pagina 225 in poi trovate gli award criteria che sono appunto questi criteri, la pertinenza del progetto massimo 25 punti, la qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto massimo 30, la qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione quindi diciamo la qualità dei partner che compongono il partenariato massimo 20 punti e poi l'impatto massimo 25. Quest'anno il modulo di candidatura è di aiuto nel senso che trovate già nell'albero a sinistra come poi vedremo la suddivisione nei quattro criteri quindi una volta che voi cliccate su un criterio vi si apre la definizione delle domande che fanno riferimento per esempio alla pertinenza del progetto quindi le priorità che voi andate a scegliere, gli obiettivi che volete raggiungere eccetera. Il punteggio massimo è 100, il punteggio minimo per poter essere finanziati è 60 però 60 distribuiti in maniera omogenea cioè bisogna ricevere almeno la metà dei punti disponibili in ciascun criterio quindi per esempio nel secondo criterio almeno 15 perché se poi si prende meno della metà il progetto è comunque bruciato anche se prende un punteggio maggiore di 60. Quindi andando un pochino più nel dettaglio nel budget, i budget sono prestabiliti quindi voi potete scegliere tra uno di questi importi forfettari, una di queste LAMSAM in base agli obiettivi che volete raggiungere, in base all'attività che volete fare e ai risultati che volete ottenere. Potete scegliere la LAMSAM da 120 mila o da 250 mila oppure quella da 400 mila. Questa cifra, questa LAMSAM che scegliete è il budget totale che poi andrà suddiviso tra tutti i partner e che diciamo fa riferimento a tutta la durata del progetto quindi se il progetto è di 36 mesi i 400 mila Euro coprono i 36 mesi, se il progetto di 24 i 400 mila Euro coprono i 24 mesi e così via. Quali attività posso inserire all'interno di questo progetto? Quali attività possono essere finanziate con questa LAMSAM che io andrò a scegliere? Sono le attività che vi servono per portare avanti il progetto quindi gestione del progetto, per esempio il coordinamento, la comunicazione, le attività di monitoraggio per vedere via via come sta andando il progetto, attività di apprendimento per esempio le mobilità di formazione, quindi se io con i miei colleghi del mio staff voglio andare all'estero presso il mio partner a fare un'attività di formazione o di insegnamento oppure incontri ed eventi, anche incontri tra partner per monitorare lo stato del progetto oppure eventi per esempio di disseminazione una volta che avrò realizzato i primi risultati oppure fondi che servono per realizzare i risultati veri e propri o per le attività di disseminazione. Le attività del progetto devono essere suddivise in work package, noi in italiano le abbiamo denominate unità di progetto, che sono un insieme di attività che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici comuni. Questa suddivisione in work package poi la capite meglio, una volta che è andata ad aprire la candidatura è proprio definita, è molto più chiaro diciamo che non ora parole, insomma è abbastanza semplice come tipologia. Quali sono i documenti fondamentali per fare una buona progettazione? Un po' l'ho già accennato, però sicuramente l'invito a presentare tutti i posti che è la call 2023, che è quello diciamo il documento da cui parte tutto. Poi c'è la guida ufficiale al programma Erasmus+, la guida del 2023, è bene andare a consultare la versione più aggiornata che è quella del 21 dicembre 2022, che per ora è disponibile solo in inglese, la versione in italiano è la versione precedente, quindi non è quella più aggiornata e in cui appunto trovate la priorità relativa all'Ucraina che vi dicevo prima. Ci sono poi le disposizioni nazionali del 2023 che fanno riferimento, sono disposizioni nazionali, quindi i vostri partner non avranno questo documento, è un documento italiano ed è stato stipulato dal Ministero con delle attenzioni particolari sia per la K1 che per la K2. Poi c'è il modulo di candidatura chiaramente che è lo strumento con cui voi andate a chiedere il finanziamento in pratica e qui abbiamo riportato il link e poi c'è l'handbook sull'AMSAM della K2 che è quello che riportavo in precedenza, lo trovate nella sezione risorse e strumenti, quindi settore a scuola, risorse e strumenti, c'è anche l'handbook 2022 ma voi fate riferimento a quello del 2023 perché la colla a cui poi voi farete riferimento è il 2023, mentre questi documenti precedenti sono disponibili nella sezione come fare domanda, come riportato qui nella slide in alto. Ci sono poi delle risorse a supporto che vi possono aiutare in questa fase di progettazione, innanzitutto c'è la piattaforma di risultati che è una banca dati della Commissione europea in cui confluiscono tutti i progetti europei, tutti i progetti Erasmus Plus e non solo e tutti i progetti Erasmus Plus finanziati, quindi qui trovate solamente dei progetti che sono già stati finanziati ed è un ottimo strumento per trovare ispirazione magari vedendo appunto dei progetti già autorizzati o anche già conclusi con la pubblicazione dei vari risultati già implementati, insomma può essere una fonte di ispirazione. E poi è uno strumento per fare delle ricerche e sfruttare anche risultati condivisi da altri, magari riprendendo i modelli, chiaramente non il risultato vero e proprio, ma un modello di screening e school education gateway che sono, fanno sempre riferimento al settore della scuola, quindi e-tweening che è una community europea di insegnanti e in cui è possibile registrarsi solamente se si fa parte dello staff di una scuola e school education gateway che è una, diciamo dove è possibile trovare delle risorse anche per esempio per ricercare partner oppure anche altri materiali utili insomma per la vostra progettazione. Queste due piattaforme stanno confluendo in un'unica piattaforma che è la European School Education Platform che diciamo ancora non è, il sito è già attivo però diciamo ancora non è disponibile al 100%, però l'idea della commissione era quella appunto di far confluire queste due piattaforme in un'unica grande piattaforma anche per semplificare diciamo la navigazione degli utenti e per fare un unico luogo di incontro per tutti gli utenti che sono interessati diciamo al settore dell'istruzione scolastica. Abbiamo poi inserito questa slide che fa riferimento all'OID perché all'interno della candidatura vi sarà richiesto di inserire un'OID per ogni partner che viene inserito nel modulo, quindi se avete già un'OID benissimo userete quello, se siete nuovi invece non avete mai la vostra scuola, il vostro ente non ha mai richiesto un'OID, la prima cosa da fare è questa, andando nella piattaforma qui in cima ritrovate il link, European Solidarity Corps, qui a sinistra potete trovare Organization, se avete il dubbio che la vostra scuola abbia già un'OID potete fare la ricerca e ricercare con una parola chiave la vostra scuola o il vostro ente, la vostra associazione per vedere se è già presente un'OID perché se è già presente non occorre riprenderne un altro, anche perché l'OID deve essere unico per ogni organizzazione, quindi anche se avete tanti progetti l'OID è sempre lo stesso, se invece non avete l'OID dovete fare la registrazione cliccando su Register My Organization. Qui abbiamo riportato i nostri contatti che sono anche nel sito erasmusplus.it scuola slash scuola slash contatti, potete contattarci telefonicamente negli orari indicati a questi numeri oppure anche email a partenariati strategici chiocciolendire.it per qualsiasi dubbio siamo a disposizione, chiaramente per semplificare la nostra comprensione vi chiediamo gentilmente di indicare la tipologia di progetto per cui fate la domanda, quindi se volete appunto fare un 220, specificare appunto il codice. Io ora ho finito, passo la parola alla mia collega Silvia Rettori. Grazie a tutti. Grazie Giuditta, buonasera a tutti di nuovo, a questo punto cominciamo la parte dedicata alla modulo di candidatura e appunto approcciandoci al modulo di candidatura ripercorriamo in qualche maniera tutte le informazioni che sono state date da Giuditta precedentemente e almeno così vediamo proprio di fatto dove vanno inserite le informazioni richieste da questo tipo di progetto. La mia idea iniziale era quella di guardare proprio insieme a voi il modulo di candidatura online proprio sulla piattaforma dedicata ai moduli di candidatura, però purtroppo oggi la piattaforma non funziona. Sì perché ancora non l'ho condiviso, la condivido subito, ora dovreste vedere il modulo di candidatura. Grazie mille. Allora stavo dicendo appunto che la mia idea era farla, fare proprio insieme a voi un inserimento diciamo di dati all'interno del modulo di candidatura online, ma oggi la piattaforma ha deciso che non funzionava per cui per motivi sicuramente legati ai tecnici di Bruxelles che ci stanno lavorando e quindi stanno sempre aggiornando via via le piattaforme, per cui abbiamo optato per una soluzione diversa ovvero quella di condividere con voi e quindi ripercorrere con voi una candidatura attraverso un file pdf di comunque una prova candidatura che avevo fatto io così in maniera un po' fittizia, però almeno possiamo vedere ciò che viene chiesto all'interno di un modulo K220 del settore scuola, quindi del settore istruzione scolastica. Purtroppo qui non potremo vedere le tendine che via via si aprono, quindi le opzioni che potete scegliere nel momento in cui vi viene chiesto se decidere di inserire un certo dato rispetto ad un altro, però ci accontentiamo di quello che vi posso raccontare io in base a quanto riportato in questo modulo. Allora ci sono delle indicazioni che sono precompilate tipo il fatto che voi stiate compilando un modulo di candidatura del settore school education lo avete scelto nel momento in cui vi siete registrati e siete andati a cliccare su KA220 SCH, quindi appunto è il modulo dedicato al settore istruzione scolastica. Il titolo di progetto lo dovete inserire voi come anche il titolo in inglese e l'acronimo del titolo. Poi dovete indicare il periodo progettuale e la durata progettuale. La data di inizio del progetto, come abbiamo già visto, può essere dal primo, potete indicare che il vostro progetto inizi, tra il primo di settembre del 2023 e il 31 di dicembre del 2023. Io ho scelto come data di inizio il 31 dicembre 2023, per cui l'ultimo giorno possibile di questo arco di inizio progetto. La durata progettuale abbiamo visto che è fino ad un massimo di 36 mesi, però potevo scegliere anche un'altra durata progettuale, per esempio potevo scegliere anche un semplice progetto di soli 24 mesi, ma ho deciso che fosse un progetto di 36 mesi, per cui automaticamente posso indicare che la data di fine progetto è il 30 dicembre del 2026, però potevo scegliere anche una durata frazionata tra i due anni, cioè i 24 mesi e i 36 mesi, potevo anche scegliere la durata per esempio di soli 30 mesi o di 28 mesi, insomma potete scegliere voi in base alle attività che dovrete realizzare con il vostro progetto. L'agenzia a cui presentare la candidatura la dovete scegliere e nel caso appunto di un K220 presentato all'Agenzia Nazionale Italiana sarà l'Agenzia IT02, Agenzia Nazionale Erasmus+, in dire. Dovete scegliere la lingua in cui compilare il modulo di candidatura, io ho scelto la lingua italiana perché secondo me in questo caso, nel mio caso, era il mezzo migliore per poter esprimere la mia idea progettuale, però potete scegliere benissimo di compilare il modulo di candidatura in inglese, nel mio caso per mia comodità ho scelto l'italiano. Poi dovete indicare l'importo forfettario adatto alla vostra proposta progettuale, cioè dovete scegliere l'importo a seconda di quelli che sono gli obiettivi progettuali, i risultati che volete raggiungere attraverso il progetto, le attività da realizzare attraverso, insomma, durante i mesi di implementazione progettuale e tutto in base appunto agli obiettivi da raggiungere e i risultati che volete realizzare e produrre. Nel mio caso ho scelto l'importo forfettario di 400 mila euro, altrimenti potevo indicare l'importo, vi ricordo, da 250 mila oppure da 120 mila euro. Nel mio caso appunto è 400 mila euro perché comunque ho un progetto di 36 mesi, ho inserito diverse attività per cui ho ritenuto necessario indicare questo importo. Nel modulo PDF vi compare subito il project summary, ma questo appunto project summary lo ritrovate online invece come ultima cosa da compilare. Purtroppo qui mi compare subito e è semplicemente per chi appunto, soprattutto per chi non ha compilato la candidatura in inglese, è un momento in cui fate, vi viene richiesto diciamo di riportare quelli che sono le idee principali del vostro progetto, quindi sintetizzare quelli che sono le fasi principali del vostro progetto, i momenti insomma salienti del vostro progetto, di riportarli in lingua inglese. Gli obiettivi, il momento dell'implementazione, quindi le attività che si vogliono realizzare e i risultati che si vogliono produrre e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Qui c'è già l'inserimento delle organizzazioni che prendono parte al mio partenariato, sono enti inesistenti, quindi ho utilizzato dei codici OID fittizi, proprio semplicemente così tanto per dare un'assembianza alla mia candidatura, un'assembianza quanto più realistica possibile anche se non lo è. Qui trovate già dei summary che logicamente nella candidatura vengono fatti all'ultimo momento, come qui vengono riassunte quelli che sono gli importi che vengono assegnati ad ogni work package, quindi ad ogni unità progettuale, però nella candidatura lo vedete solamente in un secondo momento quando avete inserito tutte le informazioni. Allora iniziamo invece dalla parte, quella proprio iniziale che è l'inserimento delle organizzazioni che prendono parte a questo vostro progetto. Quindi vi è richiesto di inserire il codice OID di ogni partner che prende parte al progetto. Il primo partner da inserire è il coordinatore, quindi è la leading organization, ovvero l'applicant, colui che appunto richiede il finanziamento poi per tutto il partenariato. Quindi io ho inserito il codice OID dell'applicant, quindi del coordinatore, del partner che appunto porterà avanti come coordinatore il progetto e poi in maniera automatica vengono inseriti tutti gli estremi di questo partner, ovvero chi è questo partner? Nel mio caso è il liceo statale Silvia che ha sede a Firenze, in Toscana, in Italia eccetera eccetera. Il profile invece, il profilo dell'ente lo dovete inserire voi in quanto dovete indicare se è un ente pubblico, un ente privato, se è un profit o un non profit e che tipo di organizzazione è, se è una scuola oppure se è un ente di ricerca, se è un'associazione o una small enterprise eccetera, trovate tanto la tendina dove poter selezionare la voce che si adatta alla tipologia di ente che avete inserito. Poi vi viene chiesto una breve descrizione del partner coinvolto, il tipo di ente, qual è l'area della sua attività, poi il numero eventuale di personale o di alunni che sono presenti presso l'ente. Poi vi è richiesto qua di indicare le attività e le esperienze del partner o in questo caso visto che è il coordinatore quindi dell'ente coordinatore in relazione all'ambito progettuale scelto, quindi indicare le competenze, le expertise delle persone coinvolte sempre legate all'ambito progettuale, quindi nel nostro caso bisogna sempre fare riferimento all'ambito appunto del settore dell'istruzione scolastica. Qui potete mettere in evidenza del perché avete scelto questo partner, cioè deve essere evidente il perché avete scelto un certo partner rispetto ad un altro proprio perché magari riesce a portare un valore in più al vostro progetto perché magari ha un expertise, ha appunto un'esperienza maggiore, un'esperienza importante magari in quella determinata tematica progettuale che è la della tematica del vostro progetto. Poi per quanto riguarda questa sezione dove viene indicato se il partner in questione ha avuto esperienze pregresse in Erasmus è una parte che si compila automaticamente ed è sempre per lo più in relazione all'ambito progettuale in cui state presentando la proposta per esempio in questo caso è un K2 e quindi va a ripescare quelle che sono eventuali esperienze pregresse del partner legato a quel codice OED in Erasmus nell'ambito appunto del K2 e nello specifico eventualmente nell'ambito del K220. Poi procedendo ecco in questa parte qua non viene una cosa che invece vi viene richiesta nel online nel modulo online nel momento in cui lo andate a compilare online nel modulo ovvero vi viene chiesto quali sono le persone di contatto di riferimento dell'ente. Nel pdf poi non compaiono ma vi è proprio questa parte è obbligatoria la compilazione dovete indicare chi è il rappresentante legale dell'ente partner e la persona di contatto almeno una persona di contatto dell'ente partner. le due persone cioè il rappresentante legale e la persona di contatto principale possono coincidere però vi è sempre richiesto di inserire almeno due persone di contatto perché è un modo per garantire all'agenzia nazionale di garantire di potervi contattare più facilmente possibile ovvero potete inserire il rappresentante legale in quanto rappresentante legale e anche persona di contatto e poi però dovete inserire anche un secondo nominativo di un eventuale seconda persona di contatto che può essere contattata nel momento in cui noi non riusciamo a metterci appunto ad entrare in contatto con il rappresentante legale per cui i nominativi da inserire sono sempre due procedendo andiamo a vedere altri gli altri partner io ho inserito il numero minimo indispensabile di paesi coinvolti all'interno di questo partenariato perché ho inserito appunto l'istituzione coordinatrice che è un ente italiano poi ho inserito un secondo partner della Francia e un terzo partner dell'Irlanda per cui ho inserito come sappiamo il numero minimo di paesi necessari per la presentazione di un partenariato K220 le domande relative alle organizzazioni partner si ripetono per ogni partner è necessario sempre indicare questo background and experience relativo ai vari partner e quindi farne una breve presentazione e spiegare sempre perché si è scelto questo partner rispetto ad altri possibili proprio perché magari ha un ruolo importante magari nell'ambito progettuale che stiamo affrontando passiamo alla sezione relativa alla relevance del progetto quindi all'ambito progettuale specifico e entriamo in quello che sono le tematiche progettuali abbiamo detto che è necessario indicare almeno una priorità che sarà la base del vostro progetto e nel mio caso ne ho indicate addirittura tre ma non è necessario indicare tre priorità ne sarebbe sufficiente una la prima priorità questa qui che nel mio caso è una priorità selezionata orizzontale ma quando voi andate ad aprire la tendina potete scegliere tra priorità orizzontali o priorità specifiche del settore istruzione scolastica per cui nel mio caso ne ho scelta una orizzontale ma potete benissimo indicarne una del settore specifico per quanto riguarda eventuali seconde o terze priorità che possono essere di interesse del vostro progetto si può scegliere sia priorità del settore specifico in cui stiamo presentando candidatura o eventualmente se si trattasse di una candidatura che abbraccia più settori quindi di interesse che avrà impatto su più settori allora sarà possibile anche scegliere eventuali priorità che hanno a che fare con settori diversi dal settore scuola dal settore school education come può essere magari il settore educazione degli adulti o eventualmente il settore vet o il settore istruzione superiore cioè il settore università poi vi è chiesto di spiegare bene come il progetto si rivolga alle priorità che avete selezionate e le priorità o la unica priorità che avete selezionato devono essere come un filo conduttore per tutto il progetto, per tutte le varie fasi progettuali e fino al raggiungimento appunto degli obiettivi finali progettuali. Successivamente dovete scegliere quelle che sono queste qui cioè dovete inserire anche quelle che sono delle tematiche che hanno a che fare che vanno a completare le priorità selezionate quindi queste tematiche hanno proprio lo scopo di rafforzare e dettagliare meglio le priorità scelte sopra o la priorità scelta sopra ne potete scegliere fino ad un massimo di tre, io nel mio caso ne ho selezionate dalla tendina due solamente. Poi si passa alla descrizione del progetto, qui trovate varie domande che hanno a che fare proprio con una descrizione quanto più in questo momento generale di quelli che sono i motivi che vi hanno spinto a presentare candidatura, questa candidatura, gli obiettivi e i risultati concreti che volete raggiungere, come questi obiettivi e risultati si collegano alle priorità indicate sopra. Vi viene chiesto di dettagliare l'innovatività della vostra proposta. L'innovazione non è intesa sempre diciamo in maniera relativa, non è intesa in maniera assoluta ed è quindi legata al contesto del proprio partenariato per cui un partenariato dove vengono coinvolte per lo più semplici istituzioni come possono essere scuole e magari piccole associazioni avranno un'innovazione diversa, cioè mireranno ad avere un'innovazione diversa rispetto ad un partenariato presentato magari da università o enti di ricerca che avranno anche obiettivi diversi rispetto a un partenariato come dicevo prima presentato da istituzioni un pochino più piccole. Vi viene chiesto se esistono iniziative complementari a questa proposta progettuale, quindi se esistono magari già progettazioni esistenti a livello nazionale dei vari partner per cui poi è stata presentata questa proposta proposta diciamo come momento diciamo di implementazione successiva rispetto magari a proposte già esistenti, a progetti o proposte già esistenti. Logicamente questo qui deve essere una proposta che si differenzia da ciò che è complementare a questa, però diciamo non parte completamente da zero ma diciamo parte già da un qualcosa che è stato implementato o già realizzato e che ha quindi già degli obiettivi raggiunti per cui si parte da questi obiettivi per poi averne ulteriori altri e magari appunto realizzare un qualcosa di migliorato rispetto a quello che è già stato fatto. Indicare poi l'eventuale se ci fosse transettorialità della proposta come abbiamo detto anche prima può essere che una proposta non coinvolga solo il settore scuola ma abbia anche diciamo dei richiami a altri settori. Importante spiegare bene come la vostra proposta apporti un valore aggiunto europeo e come i risultati non potrebbero essere raggiunti se il progetto non fosse stato implementato a livello europeo, bensì se fosse stato implementato solo a livello nazionale o da un singolo paese magari appunto questa proposta progettuale non avrebbe potuto avere gli stessi risultati e non appunto non potrebbe aver avuto degli obiettivi europei come nel caso di una proposta progettuale in cui viene coinvolto o in cui vengono coinvolti altri paesi europei. Per cui questo qui il valore aggiunto europeo è sempre un punto importante dove dare risalto a questo tipo di proposta progettuale. Poi si passa all'analisi dei bisogni, abbiamo detto che in tutti i progetti la base di partenza è l'analisi dei bisogni, nel caso di un partenariato questa analisi dei bisogni deve essere un'analisi dei bisogni condivisa con gli altri partner ovvero con appunto le altre istituzioni, enti, organizzazioni coinvolte. È necessario indicare i bisogni che stanno alla base della vostra idea progettuale e dell'implementazione progettuale. Quali sono i target gruppo oppure qual è il target gruppo del progetto e il target gruppo nel nostro caso deve essere quello riferito al settore istruzione scolastica per cui deve essere la ricaduta e quindi i destinatari principali della vostra proposta devono avere a che fare sempre con il settore dell'istruzione scolastica. Se così non fosse allora vuol dire che il progetto non doveva essere presentato in questo settore, bensì la candidatura doveva essere presentata magari in un settore differente come può essere nel settore della formazione professionale o nel settore per esempio dell'educazione degli adulti. Indicare poi l'analisi dei bisogni riscontrata anche nei paesi partner e sempre fare riferimento ai destinatari di riferimento quindi al target gruppo. Indicare come quindi in quale maniera il progetto risponderà ai bisogni individuati e questa è la parte dell'analisi dei bisogni. Passiamo poi alla partnership quindi alla composizione del partenariato e alle disposizioni che vengono prese per far sì che ci possa essere l'auspicata cooperazione tra partner. Allora viene subito chiesto di dare la descrizione del team di progetto, come è stato formato il partenariato, quindi i partner e il valore aggiunto della loro collaborazione. Come abbiamo detto sempre è importante che ogni partner abbia un proprio ruolo, sia attivo quanto più in tutta l'implementazione progettuale, per cui non ci deve essere un partner che semplicemente viene inserito nominalmente senza poi avere un effettivo momento di partecipazione attiva all'interno del partenariato. Ci possono essere, come indicato qui in queste domande, dei partner associati. I partner associati sappiamo che non possono essere finanziati, semplicemente possono essere dei partner esterni, che qui potete elencare dei partner esterni che danno supporto in una determinata fase progettuale, per esempio affinché possa essere realizzato al meglio il vostro progetto. Per esempio alcuni partner associati possono avere un ruolo nel momento della disseminazione progettuale, quindi nella disseminazione dei risultati progettuali e qui possono essere coinvolti dei partner esterni, che qui vengono denominati come associated partner. Non concorrono, come ho detto, al finanziamento, per cui non possono ricevere un finanziamento per la loro partecipazione al progetto, ma sicuramente svolgono un ruolo che può avere un valore di sostegno alla realizzazione del progetto. La suddivisione vi viene chiesto come intendete suddividere i compiti e come viene garantito un ruolo attivo da parte di tutti i partner, inclusi anche gli eventuali partner associati. Quindi si ribadisce che i partner devono avere un ruolo, un ruolo che viene dettato appunto dalle loro competenze, per cui eventualmente un partner più esperto di avrà magari un ruolo maggiore in un certo tipo di attività, ma comunque sarà un partner che accompagnerà tutta l'implementazione progettuale e non sarà legato solamente ad un momento specifico, ma sarà un partner appunto che da queste descrizioni si capisce che è un partner essenziale all'implementazione progettuale e in quest'ottica dovete anche andare a scegliere i vostri partner, che appunto dovrebbero essere sempre partner essenziali alla realizzazione del vostro progetto. Vi vengono chieste quali sono le strategie di coordinamento e di comunicazione tra partner e anche con gli eventuali partner associati. Quindi molto importante appunto che ci sia una comunicazione costante tra partner, quindi un comunicare, un confrontarsi in maniera costante, in maniera da evitare incomprensioni o fasi in cui un partner sparisce per un periodo e quindi insomma è necessario adottare appunto strategie ed evitare rischi di fallimento nel momento in cui un partner esce dal partenariato, perché si tratta sempre di un piccolo fallimento dell'idea iniziale di partenariato anche se poi eventualmente si potrà procedere in altra maniera a portare avanti il partenariato, però è necessario fin dall'inizio andare ad individuare partner che possano essere affidabili, quindi è proprio la garanzia di già di iniziare bene un partenariato. Passiamo alla sezione dedicata all'impatto. Sezione dedicata all'impatto dove vi viene richiesto quali sono le strategie di valutazione e riguarda gli obiettivi progettuali, di valutazione quindi del raggiungimento degli obiettivi progettuali, come abbiamo detto è sempre necessario strutturare il progetto in base a un monitoraggio dell'impatto e a una valutazione degli obiettivi progettuali, quindi strade eventuali, qui potete descrivere quelle che sono le eventuali strategie di valutazione degli obiettivi progettuali, indicare qui la sostenibilità del progetto, quindi una volta che il progetto si va a chiudere come i vostri prodotti progettuali, gli obiettivi, cioè non deve chiudersi subito i risultati progettuali, non deve avere fine tutto con la chiusura ufficiale del progetto, ma l'idea progettuale deve essere portata avanti, deve continuare diciamo nel breve tempo successivo a rimanere in vita, quindi a esistere per i partner del progetto e soprattutto deve essere disseminata, per cui la vostra idea progettuale può avere diciamo vita successiva grazie a una disseminazione capillare che viene fatta oltre a quello che è il semplice partenariato dove avete realizzato il progetto, per cui si parla di disseminare quanto più a livello territoriale e poi sempre a livello più ampio nazionale ed eventualmente fuori dal nazionale. La disseminazione è garanzia comunque di un'eventuale sostenibilità dell'idea progettuale, quindi anche l'impatto grazie alla disseminazione sarà un impatto quanto più a largo raggio, quindi in un partenariato che non è un progetto come può essere un progetto dell'azione chiave 1 dove la ricaduta, l'impatto si ha soprattutto a livello di istituto che presenta il progetto e che porta avanti il progetto. Nell'azione chiave 2 invece l'impatto deve essere quanto più a largo raggio, sia perché si tratta di cooperazione tra partner di diversi paesi per cui l'impatto sarà almeno negli enti partner quindi in paesi diversi, ma soprattutto si deve cercare che questa idea progettuale possa essere disseminata, quindi possa essere replicata, avere vita successiva, presso altri enti, altre organizzazioni per cui avere stakeholder interessati che portano avanti la vostra idea progettuale. Vi viene chiesto quali possono essere le strategie di condivisione e promozione dei risultati e chi è il main target, quindi il target principale, destinatario principale di questi risultati e qui potete appunto pensare a chi possono essere gli stakeholder che possono diciamo continuare e andare a sperimentare la vostra idea progettuale che poi sarà un risultato progettuale per cui possono avvalersi dei vostri risultati progettuali e implementarli presso la propria istituzione, nel proprio paese e quindi diciamo è come se fosse un impatto, avere un impatto quanto più largo possibile. Si entra proprio nel network package, quindi nelle attività, la sezione appunto dedicata alle attività delle varie unità progettuali in cui volete suddividere le vostre attività progettuali. Il primo work package è quello dedicato al project management, per cui è un'unità progettuale o work package che si voglia dire trasversale, ovvero va a toccare tutte quelle che possono essere le attività trasversali di comunicazione, di monitoraggio, di appunto comunicazione tra partner, infatti se guardiamo quelle che sono le domande si va proprio a dover indicare le attività e le strategie di monitoraggio che si vogliono attuare durante le varie fasi progettuali, le strategie di controllo del budget e le tempistiche della gestione, la guida raccomanda e lo stesso anche l'handbook riferito alle Lamsa, ma raccomandano di dettagliare bene, di aver chiaro bene fin da subito quelle che sono le tempistiche della gestione del progetto, le tempistiche anche delle varie attività, per cui avete fin da subito un programma dettagliato di tutte le attività suddivise anche proprio nell'arco temporale del progetto. Le strategie di controllo, le strategie della gestione dei rischi, poi ci sono le domande riferite alle quattro tematiche trasversali del programma Erasmus che sono l'inclusività, il digitale, il green e la partecipazione alla vita democratica attiva. La prima domanda è riferita all'inclusività, l'altra domanda è riferita agli strumenti digitali e ai metodi di apprendimento che supportino quelli di mobilità fisica, poi c'è il riferimento agli aspetti green che comunque un progetto appunto deve comunque avere al di là che sia specifico poi riguardo una priorità specifica sugli aspetti ambientali o meno, lo stesso vale per la domanda relativa agli aspetti di partecipazione alla vita democratica. Appunto queste ultime quattro domande sono relative alle tematiche trasversali, inclusività digitale, green e partecipazione alla vita democratica, anche se il vostro progetto tratta magari nello specifico un'altra priorità, però queste tematiche devono essere intrinseche ad ogni proposta progettuale dell'azione chiave 2, perché sono le tematiche portanti del programma Erasmus, di questa fase del programma Erasmus. Il budget previsto per il work package dedicato al project management può essere al massimo il 20% dell'AMSAM, quindi del budget totale indicato, per cui il 20% dei miei 400.000 euro che avevo indicato inizialmente sono 80.000 euro destinati a questo work package. Passiamo invece ai work package specifici delle attività che possono essere attività come abbiamo detto riferite per esempio a degli incontri di progetto in quanto si vuol fare magari progettazione insieme ai partner, momenti di progettazione insieme ai partner, oppure possono essere mobilità per apprendimento perché la mia tematica progettuale richiede questo tipo di attività, quindi attività di formazione, di apprendimento, eventualmente di insegnamento, poi ci possono essere momenti di elaborazione di prodotti progettuali e poi dei momenti di disseminazione, eventi di disseminazione dei miei risultati progettuali, per cui vado ad indicare queste tipologie di attività all'interno dei vari work package. I work package non sono altro che delle unità progettuali, unità di progetto e di lavoro e sono un insieme appunto, più attività di partenariato che contribuiscono tutte insieme al conseguimento di obiettivi specifici legati appunto ad un singolo work package, a quel singolo work package. Infatti la domanda appena ci si approccia al secondo work package è quello di definire gli obiettivi specifici e come si legano agli obiettivi generali del progetto, per cui ogni singolo work package ha dei sotto obiettivi rispetto a quelli generali di progetto. La seconda domanda chiede quali saranno i risultati di questo work package? Viene chiesto quali sono gli indicatori quantitativi e qualitativi per misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi e la qualità dei risultati, per cui è necessario proprio entrare nello specifico in modo da dare appunto risalto e dettaglio a livello anche qualitativo alle attività che si vogliono implementare in ogni singolo work package. Nell'handbook riferito alle LAMSAM dell'azione chiave 2 è proprio dettagliato, ci sono degli esempi su quali sono gli indicatori quantitativi, gli indicatori qualitativi, per cui questo handbook vi può essere anche proprio di aiuto in questa fase di progettazione, proprio per avere idee, per poter appunto concretizzare meglio quali possono essere indicatori utili alla vostra progettazione e poi alla vostra realizzazione del progetto. Vi viene chiesto di descrivere i compiti e i ruoli dei partner nell'organizzazione di questo work package e vi viene chiesto poi di giustificare la richiesta del budget di questo work package e dovete far capire e mettere in evidenza che sia un calcolo quanto più realistico possibile, quindi non deve essere un calcolo eccessivo, non deve essere un calcolo in cui voi ci andate a rimettere poi della realizzazione progettuale, ma dovete basarvi su calcoli quanto più realistici possibili. Nell'inserimento delle attività dovete inserire il periodo progettuale in cui pensate di realizzare le varie attività che vanno a comporre il, per esempio in questo caso, il secondo work package e dovete anche poi inserire l'ammontare necessario alla realizzazione di quell'attività. Dovete sempre indicare qual è l'organizzazione, la leading organization, quindi l'organizzazione che, il partner che organizzerà il questo work package, questa attività di questo work package e quali sono le organizzazioni partecipanti oltre al partner che è diciamo la leading organization, le altre io per esempio ho messo come nella prima attività ho messo come leading organization l'applicant, ovvero il liceo statale Silvia e ho messo le altre due organizzazioni, cioè gli altri due partner come comunque partner che contribuiscono, che fanno l'attività, realizzano l'attività insieme all'applicant organization. Lo stesso vale per la seconda attività che va a comporre questo work package e appunto in questo caso la leading organization è cambiata rispetto alla prima attività perché in questo caso la leading organization è il partner francese, ma all'attività partecipano comunque anche gli altri due partner per cui sempre tutto il partenariato nel mio caso partecipa in ogni singola attività di questo work package. Gli importi sono diversi perché magari l'attività richiede minor impegno o è meno costosa l'una rispetto all'altra, insomma hanno diversità infatti di importo totale. In totale questo work package ha somma insieme 70 mila euro. Poi si passa alla fase descrittiva di queste attività, bisogna dare le informazioni su ciascuna attività pianificata, sia la sede, la durata, definire l'organizzazione capofila dell'attività e anche elencare le organizzazioni partecipanti. L'organizzazione principale è in genere quella che organizza le attività e le organizzazioni partecipanti sono tutti gli altri partner di progetto che prenderanno parte a questa attività specifica. Le date di inizio e di fine delle attività possono essere poi modificate durante l'implementazione logicamente, quindi come sempre in un progetto si può anticipare o posticipare la realizzazione di un'attività, l'importante è comunque realizzarla perché il progetto prevede che tutte le attività che vengono approvate vengono anche realizzate e vengano realizzate con il raggiungimento appieno degli obiettivi che erano prefissati e che vengano anche prodotti i risultati che appunto si erano anche quelli prefissati. È necessario descrivere come le attività progettuali proposte aiutino a raggiungere gli obiettivi di questo insomma del work package di riferimento, quali sono i risultati attesi ed è necessario anche definire il numero e il profilo dei partecipanti alle attività di questo singolo work package. Bene, successivamente c'è il work package 3 ed è similare a quello precedente, logicamente anche il 4 ed eventualmente anche il 5. Nella guida si raccomanda, si suggerisce di strutturare il progetto avendo fino ad un massimo di 5 work package e così potete fare. Quindi i work packages avete capito che devono essere questo insieme di attività che sono legate a degli obiettivi e dei risultati specifici. Quindi dei sotto obiettivi e dei sotto risultati rispetto a quelli generali del progetto. Anche qui c'è la descrizione delle attività, lo stesso per il work package 4 e poi abbiamo finito, mi sa, la candidatura. Questa qui è la descrizione delle attività del work package 4 e poi avete la fase finale di dover allegare la modulistica obbligatoria, ovvero la declaration of honor che potete scaricare, far firmare al rappresentante legale dell'ente coordinatore e caricarla appunto al modulo di candidatura. Lo stesso vale per i mandati da far firmare ai partner. Sono in parte, questi documenti sono già precompilati e non c'è altro che far firmare per esempio i mandati sia dall'ente coordinatore che dalla partner in questione. C'è un mandato per ogni partner che prende parte ufficialmente al progetto. Bene, qui si chiude la mia presentazione. Il modulo di candidatura sarebbe stato un pochino visivamente magari più utile, però purtroppo non funzionando la piattaforma ci siamo accontentati di questo modulo in formato PDF. Passiamo ora alla fase delle vostre domande, per cui c'è questa fase dedicata alle vostre domande. troverete nella vostra schermata il pulsante dedicato a Q&A dove potete cliccare e porre la vostra domanda. Avete cinque minuti a disposizione per inviarci le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre richieste di informazione. Ci rivediamo comunque tra un quarto d'ora, almeno facciamo diciamo 10 minuti almeno di pausa. Ci rivediamo al massimo tra un quarto d'ora e saremo noi sempre dell'Agenzia Nazionale pronti a rispondere a quelli che sono i vostri quesiti. Grazie e ci rivediamo tra poco. Sì, eccoci di ritorno. Allora, ora possiamo passare a rispondere alle domande che ci avete posto. Allora, rispondo alla 6956. Cosa si intende per i risultati del WP, cioè Work Package? Ciò che prima veniva definito Output, oppure l'impatto che le attività avranno sul progetto o sui partecipanti? Come si differenziano dai risultati delle singole attività che compongono il WP? Allora, cosa si intende per i risultati del WP? Sono tutto ciò che andrete a realizzare all'interno di quello Work Package. Bisogna un po' diciamo dimenticare la precedente struttura dei partenariati del vecchio programma perché qui è un po' diversa, quindi magari può fare confusione avere troppo in mente magari i vecchi partenariati K201. Un WP voi lo potete strutturare come meglio credete, c'è molta flessibilità da parte della Commissione Europea e tutto sta nella definizione degli obiettivi di quel WP. Come abbiamo visto all'interno della candidatura dovrete definire gli obiettivi di quel Work Package e come si allacciano tali obiettivi a quelli del progetto, quindi agli obiettivi più ampi. Ciò che prima veniva definito output, cioè i risultati, i prodotti, le opere di ingegno, diciamo sì potete inserire quelle all'interno del WP purché siano legate appunto all'obiettivo. Quindi il suggerimento è quello di definire bene gli obiettivi del WP, cioè voi cosa volete andare a realizzare all'interno di quell'unità di lavoro. e poi descrivere tutte le attività che vi servono per raggiungere tali obiettivi. Ora rispondo alla 69-57. Cosa si intende per i risultati delle attività? I documenti prodotti e o raccolti, cioè ad esempio ricerche, certificati di partecipazione a corsi di formazione, video delle attività, oppure l'impatto che le attività avranno sul progetto e sui partecipanti. Come dicevo poco fa, si tratta di descrivere le attività che andrete a fare per raggiungere gli obiettivi di quella data unità di lavoro. Poi chiaramente l'impatto lo potrete descrivere nella sezione apposita del modulo di candidatura, però chiaramente mentre descrivete le attività comunque si fa riferimento anche all'impatto che potranno avere sul target che avete deciso, che avete definito prima. 69-59. Qual è la sede dell'attività per le ricerche virtuali e lo sviluppo dei documenti? La sede è quella del leading partner o online? Allora quando andate a inserire le attività virtuali, la sede è fittizia chiaramente perché non sono appunto attività in presenza, quindi potete inserire quella della leading partner che è il partner che organizza quell'attività online. 69-60. Come inserire la parte di comunicazione e disseminazione? È possibile fare un VT dedicato? Allora qui dipende da come è strutturato il progetto. Potete sia vedere un work package apposta per la comunicazione e la disseminazione, se si parla di attività comunque trasversali a tutti gli altri VP, oppure se in un dato VP fate delle attività e poi andate a organizzare delle attività di comunicazione e disseminazione specifiche proprio di quelle attività lì all'interno del VP2 per esempio, allora potete prevedere i costi per la disseminazione all'interno di quello stesso VP. Quindi in questo senso la decisione aspetta il partenariato, c'è flessibilità in questo. 69-61. Come calcolare lo staff cost? Ci sono dei ceiling cost di riferimento? È necessario allegare un budget plan alla proposta? Allora, non ci sono dei tetti massimi di costi di riferimento. Voi potete basarvi su delle tabelle che ritenete più opportune, l'importante è che siano comunque costi realistici, quindi che facciano riferimento, cioè che siano potenzialmente realizzabili, ecco non magari valori assurdi. Il budget plan se lo volete allegare lo potete allegare, però l'importante è che tutte le informazioni che voi volete, che vengano valutate da valutatori, le dovete inserire all'interno del modulo di candidatura, poi potete inserire degli allegati per rendere più chiare le informazioni che avete scritto in candidatura, però l'importante è che le informazioni siano tutte all'interno dell'application form, perché appunto poi sono quelle che rimangono diciamo come base, insomma non va bene per esempio fare un'application generica e poi allegare tutto, mettere tutte le specifiche in allegato, assolutamente. Tutte le informazioni vanno indicate necessariamente nella candidatura. 69 e 62, come calcolare le spese di viaggio? Facciamo riferimento alle tabelle condivise dalla Commissione per i progetti centralizzati? Anche qui non c'è una regola, voi potete definire le spese di viaggio facendo riferimento alle tabelle che più ritenete opportuno, come ho detto prima, l'importante è che siano costi realistici. 69 e 63, è necessario legare un Gantt alla proposta? Allora potete allegarlo, è anzi suggerito all'interno dell'handbook che si diceva durante la presentazione, è suggerito proprio il fatto di allegare un Gantt, una timeline, perché appunto serve poi al valutatore per avere un'immagine più dettagliata anche dal punto di vista cronologico e un'idea più precisa delle attività che andrete a fare anche dal punto di vista proprio temporale. 69 e 64, come posso calcolare in modo ragionevole e veritiero i costi di viaggio e supporto giornalieri qualora siano previste delle mobilità? Le tabelle dell'azione 1 sono poco attendibili con i costi reali, come ci si può regolare? Questo come dicevo prima appunto c'è flessibilità, quindi decidete voi come calcolare i costi, l'importante appunto che siano più o meno realistici, ecco non troppo stati. Passo la parola a Silvia Rettori. Allora, sì, continuiamo sempre a rispondere ad altre domande. 69 e 58, che differenza c'è tra gli expected results della tabella dell'handbook riferito alle LAMSAM e la loro descrizione nel testo? Io penso che si riferisca alla tabella pagina 20 dell'handbook e se guardando appunto questa tabella si capisce che appunto gli expected results sono sempre riferiti al work package di riferimento, cioè ogni work package avrà degli obiettivi da raggiungere e dei risultati legati all'implementazione delle attività di questo work package, per cui gli expected results sono sempre legati a quello work package. Ci saranno degli obiettivi generali di progetto, dei risultati specifici di progetto che si vorranno raggiungere e poi questi obiettivi e questi risultati vengono declinati nei singoli work package che possono essere diversi work package fino ad un massimo, come dice la guida si suggerisce, fino ad un massimo di 5. Prendiamo per buono questo numero e pensiamo che ogni work package abbia dei sotto obiettivi e dei sotto risultati che poi tutti insieme andranno a definire quelli che sono gli obiettivi e risultati progettuali. Logicamente i risultati progettuali che uno decide di avere, immaginiamoceli che siano 4 risultati progettuali, diamogli un numero più che una consistenza, una definizione insomma qualitativa, diamogli questo numero. Per cui al work package numero 2 ci sarà per esempio un risultato facciamo il primo risultato. Allo work package numero 3 ci sarà legato per esempio il secondo risultato da realizzare. Nel work package 3 ci sarà eventualmente il, nel work package 4 ci sarà il risultato 3 e nel work package 5 ci sarà il risultato 4 da realizzare. Potete pensarlo in questa maniera e così è strutturato nella tabella. Cioè è una tabella abbastanza semplice se si segue il flusso dall'alto verso il basso per come indicano le frecce logicamente. Si parte dagli obiettivi generali, ci sono dei sotto obiettivi 1, 2, 3 e 4. Poi ci sono dei work package, qui definisce solamente il work package 2, 3 e 4 e ad ogni work package sono legati dei risultati, degli aspetti del result. Quindi è una tabella, una tabella da leggere appunto in direzione, nella direzione indicata dalle frecce, cioè dall'alto verso il basso. Questa è la risposta. Bene, procediamo. La descrizione nel testo appunto di questi aspetti del result semplicemente vanno descritti nelle domande relative a quelli che sono i risultati che ci si aspettano da un certo VP e vanno descritti quanto più dettagliatamente. Come sempre stato in ogni candidatura, anche precedente progettazione, programmazione. Allora, altra domanda. La 69-65, le firme dei mandati e della declaration on honor possono essere autografe o devono essere digitali? Possono essere autografe. Anzi, meglio, evitate eventuali problemi poi con la verifica che eventualmente dobbiamo fare nel caso in cui ci siano delle firme digitali sui mandati o sulla declaration of honor. Potete benissimo fare le firme autografe. Non c'è l'obbligo della firma digitale al momento della presentazione della candidatura. Dal momento invece che la candidatura viene approvata, allora lì avete l'obbligo delle firme digitali. Ma prima no. Altra domanda. 69-66, il budget cosa può coprire? Il budget va a coprire tutte le attività che si vogliono implementare all'interno della progettazione di quel progetto. In più il budget va a coprire anche quelle che sono, diciamo, le spese più generali, trasversali, che vanno a coprire ogni fase progettuale e sono le spese di project management. Le spese di project management vengono calcolate nel primo work package e possono ammontare al massimo al 20% del budget totale. Le attività che si possono invece inserire all'interno di ogni singolo work package possono essere di varia tipologia. Possono essere semplici incontri progettuali tra partner, possono essere attività di mobilità per formazione, attività di mobilità per apprendimento, possono essere la realizzazione di risultati di progetto o quelli che erano gli intellectual output della vecchia progettazione o anche semplici risultati di progetto più piccoli che non debbano essere delle opere di ingegno ma semplici risultati che derivano dalla cooperazione tra partner e la disseminazione, attività di disseminazione dei risultati raggiunti, dei risultati realizzati, dei risultati raggiunti e dei prodotti realizzati. Queste sono le attività che sono ammissibili all'interno di ogni singolo work package. Sono queste, come le abbiamo già elencate anche precedentemente, le trovate elencate nella guida e le trovate anche elencate all'interno dell'handbook sulle LAMPSAM, dedicato alle LAMPSAM nei partenariati K2. Vi raccomando insomma una lettura di queste due guide perché possono essere appunto proprio di aiuto nella vostra progettazione. Domanda 6967. Nel progetto che sto scrivendo sono coinvolte delle università, come le devo inserire? Come calcolare il costo per la loro collaborazione? Inoltre vorrei sapere come orientarsi per calcolare il costo delle singole attività di ogni WP. Si possono destinare alcuni fondi per l'acquisto di applicazioni o di strumenti particolarmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto? La risposta è tutta sì, nel senso come si può inserire le università? Le università possono essere inserite all'interno appunto di una proposta progettuale K220. È necessario utilizzare il loro codice ID per essere inserite. Logicamente devono essere partner funzionali alla realizzazione progettuale per cui devono svolgere un ruolo attivo all'interno del progetto. Possono quindi poi pagare quelle università che partecipano in maniera attiva alle attività progettuali? Certo, quindi lo staff delle università che prenderà parte alle attività progettuali potrà essere pagato. Perché no? Possono essere pagati sempre tutti i partner ufficiali all'interno del progetto che prendono parte alle attività. Deve essere descritto la loro funzione, cioè il ruolo all'interno di quell'attività, che cosa andranno a fare, qual è l'obiettivo da raggiungere. Però è logico che possono essere pagati partner come le università, quindi lo staff delle università. Sì, inoltre vorrei sapere come orientarsi per calcolare il costo delle attività per ogni WP. Potete prendere a riferimento qualsiasi tabellario che vi può essere utile a calcolare costi quanto più realistici possibili nella realizzazione delle attività che pensate. Per cui se avete dei tabellari che normalmente utilizzate per altre attività e secondo voi utilizzano calcoli realistici, allora potete utilizzare quei tabellari lì. Quindi libera scelta, cioè non c'è un riferimento perché se no, se ci fosse stato un riferimento d'obbligo da utilizzare, lo avreste trovato nella guida al programma. Inoltre vorrei sapere come orientarsi, questo l'ho letto, si possono destinare alcuni fondi per l'acquisto di applicazioni o di strumenti particolarmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto? Sì, l'importante è sempre specificare perché quegli strumenti sono utili alla realizzazione del vostro progetto. Cioè tutto ciò che pensate di implementare, di realizzare, di utilizzare, di aver necessità, lo dovete giustificare, motivare, dandogli anche una cifra, logicamente relativa all'utilizzo, eventualmente alla necessità di utilizzare qualcosa. Gli date una cifra, motivate il perché è necessario e logicamente lo potete inserire all'interno del budget previsto per le attività progettuali. Non ci sono, se ci fosse appunto in questo senso, l'importante è che tutto faccia parte del progetto, cioè tutto ciò che pensate sia utile è possibile inserirlo all'interno del progetto. Quindi, logicamente, deve essere un qualcosa di utile ai partner per portare avanti le loro attività. Domanda 69, 68. La ricerca dei partner dalla piattaforma ESEP risulta difficile e le modalità precedenti non risultano aggiornate. È vero, purtroppo è il problema delle piattaforme in questo momento. Lo vedete, oggi volevo fare una cosa completamente diversa, non è stato possibile farlo perché tipo la piattaforma, quella delle application forma non funzionava, non era possibile collegarsi, così ESEP ancora deve essere implementata. Quindi alcune funzionalità di ESEP al momento non funzionano, non sono implementate, per cui dovete avere pazienza. Per quest'anno non è possibile eventualmente cercare partner su ESEP. dovete trovare una modalità alternativa a fare la ricerca dei partner. Purtroppo quest'anno quella opzione lì non è percorribile. Domanda 69, 70. L'impostazione è praticamente la stessa o quasi dell'azione chiave 2 partenariati per la cooperazione su settore VET. Sì, diciamo la base per tutti i settori è la medesima dell'azione K, per esempio del K220. L'impostazione è uguale per tutti i settori, che sia settore istruzione superiore, istruzione scolastica, educazione degli adulti, VET, l'impostazione è la medesima. Semplicemente cosa cambia? Cambia il settore di ricaduta delle attività progettuali, il target a cui ci si riferisce nell'implementazione progettuale. Il target del settore SCH, cioè del settore school education, cioè del settore istruzione scolastica, è la scuola, è il mondo della scuola, è il mondo della scuola con i suoi attori, che siano i ragazzi, quindi gli alunni, che siano i docenti, gli insegnanti, è appunto, o siano i sistemi, il sistema educativo, diciamo in senso più generale, è comunque quello il settore dove deve ricadere, dove ci deve essere l'impatto, dove si deve misurare l'impatto della progettazione K220, il settore istruzione scolastica, è il mondo della scuola, per cui il riferimento principale di tale progettazione è questo settore school education. Domanda 69-74, vorrei sapere in sintesi anche come organizzare le mobilità dei docenti, il programma copre costi di viaggio e di soggiorno completamente, premesso che è buona norma progettare con scrupole e non esagerare in ogni caso, ma c'è un limite alle persone che si possono mandare in mobilità e comunque le mobilità sono limitate ad un numero specifico? No, se ci fosse una limitazione, un numero limite, massimo, minimo, ci sarebbe indicato, invece è sempre un qualcosa, cioè il numero delle persone che possono andare in mobilità, che un certo tipo di attività può essere ammesso o non ammesso in un progetto è semplicemente legato agli obiettivi di quel progetto stesso, per cui è il progetto stesso con le sue motivazioni, con tutte le spiegazioni del caso, è quel progetto stesso che mi indica se la richiesta di persone che vanno in mobilità può essere eccessiva rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere, oppure il numero di mobilità previsto è inferiore magari agli obiettivi che si vogliono raggiungere, per cui è semplicemente ogni proposta progettuale fa testo a sé, quindi se prevedere una mobilità, se è adatta una mobilità ad una certa proposta progettuale lo fa quel progetto, cioè come lo presentate, fa sì che il valutatore possa capire che effettivamente può essere prevista, è adatta una mobilità all'interno del vostro progetto, oppure fa capire al valutatore che le mobilità magari non sono necessarie ad un progetto per come l'avete impostato voi, secondo gli obiettivi che volete raggiungere, secondo il lavoro che volete fare, per cui descrivete bene, motivate bene quello che intendete fare, legandolo sempre agli obiettivi progettuali e alle priorità che avete indicato all'inizio nel progetto, cioè tutto deve essere collegato, tutto deve avere il suo perché legato appunto agli obiettivi progettuali. Poi 69 e 75, potete indicare se sia preferibile scrivere l'application form in italiano o in inglese, è una scelta libera, non c'è un obbligo di scrivere, è meglio scriverla in inglese, si hanno punti in più se si scrive la proposta progettuale in inglese invece che in italiano. No, la scrivete secondo come pensate di esprimere meglio la vostra idea progettuale, quindi è a vostra discrezione. Bene, io se, anzi l'ultima domanda che rispondo è la 69 e 78. Allora, avete in programma corsi di formazione su EU Academy per imparare a progettare un Erasmus, un po' come è stato fatto per i screening? No, non abbiamo in programma nessun corso su EU Academy, semplicemente abbiamo in programma degli infoday dedicati alla presentazione delle proposte progettuali che hanno scadenza tra febbraio e marzo, quindi ci sono infoday dedicati all'azione chiave 1, ci sono infoday dedicati ai K210, sia del settore istruzione scolastica che anche del settore educazione degli adulti, per cui eventualmente se siete interessati a questi infoday potete eventualmente appunto prenotarvi per poterli ascoltare. Io ora passerei la parola alla mia collega, se non ho saltato niente, forse ho saltato la 69 e 76. Attività quali mutual learning, incontri per la disseminazione degli output di progetto, incontri per il riconoscimento di crediti per la formazione avvenuta, sono attività elegibili ed in linea con le aspettative della commissione? Ho risposto prima a questa domanda, nel senso che tutto deve essere legato agli obiettivi e alle priorità del vostro progetto, se avete scelto delle priorità in linea con le priorità della commissione e avete legato un percorso progettuale con degli obiettivi realizzabili e ci legate delle attività utili a raggiungere questi obiettivi, sicuramente siete già sulla strada giusta di una buona progettazione. L'importante è sicuramente non siete fuori tema, cioè non siete fuori tipologia progettuale, l'importante è scegliere la priorità da seguire e degli obiettivi concreti, realizzabili e allegarci delle attività che garantiscano appunto il raggiungimento di questi obiettivi. Logicamente tutto deve avere un impatto, una ricaduta sul mondo della scuola, come abbiamo detto prima, perché siamo nel caso di progettazioni del settore istruzione scolastica. Bene, io ora passo la parola per le ultime domande e le ultime risposte alla mia collega Silvia Costantini. Allora, continuo io. Bene, allora rispondo anche alla 69-77. Se fosse necessario coinvolgere in un viaggio un partner associato, è possibile sostenere i costi di mero viaggio con il progetto? Allora, abbiamo detto che per i partner associati non è previsto nessun sostentamento finanziario. I partner associati hanno, diciamo, il compito di sostenere il progetto però come se lo sostenessero dall'esterno, per cui non sono riconosciuti come partner attivi nelle singole attività, bensì possono essere partner attivi in certe fasi progettuali, per esempio offrendo magari un sostegno esterno al progetto, come può essere per esempio un partner importante istituzionale che si vuol rendere visibile nel momento in cui si fa la disseminazione delle attività progettuali, quindi dei risultati progettuali, per esempio questo partner istituzionale può offrire spazi, per esempio, per fare un'attività, un evento di disseminazione e può partecipare, diciamo, sempre come esterno a questo momento di disseminazione. Questo è un esempio come ne potrei fare altri, però è per farvi capire il ruolo che può avere il partner associato. Se invece volete avere un partner che prende parte alle attività progettuali, che pensate che possa avere un ruolo attivo all'interno del progetto, allora in quel caso dovete pensare ad inserire quel partner come partner attivo, quindi ufficiale, all'interno del progetto, quindi inserendo il suo codice OID. Pensate un po' appunto a che ruolo volete far svolgere a questo partner. Cioè sono ruoli diversi, il ruolo attivo di tutti i partner ufficiali e invece il ruolo, diciamo, esterno del partner associato che non può ricevere un finanziamento da parte del progetto, ma che può dare il suo sostegno esterno, quindi dare anche un valore aggiunto, se si vuole, all'implementazione progettuale. Domanda 69, 79. È possibile avere informazione in merito ai progetti K.A. 229? E purtroppo i progetti K.A. 229 sono progetti che sono andati a chiudersi, diciamo, a chiudersi, a finire. Non è più prevista una progettazione attiva, nuova, dei progetti K.A. 229. Si sono conclusi con l'ultimo anno di progettazione del primo settennato di Erasmus+, per cui l'ultima annata in cui c'è stata possibilità di candidarsi era il 2020, mentre dal 2021 i K.A. 229 non esistono più come partenariati. A livello di partenariato, quindi di cooperazione tra partner europei, ci sono i K.A. 220 di cui stiamo parlando oggi, o i K.A. 210, ma invece se si intendesse presentare un progetto dove il focus è la mobilità dei ragazzi, quindi degli alunni, la mobilità dello staff della scuola, allora potete pensare a presentare un progetto all'interno dell'azione chiave 1, un progetto K1 dove ci sono possibilità di progettazione anche al di là della richiesta di accreditamento per i progetti di breve durata. E quindi eventualmente potreste pensare, se volete fare la mobilità per esempio degli alunni e dello staff, a presentare anche alla prossima scadenza, quella di febbraio, dei progetti di breve durata dell'azione chiave 1, che sono i progetti K.A. 122. Finisco con la 69-80, se si decide di implementare un progetto in 22 mesi, la somma erogata sarà sempre 120.000 euro, certo, le LAMSAM non sono legate alla durata progettuale, le LAMSAM è tutto un insieme, le LAMSAM sono legate agli obiettivi che si vogliono raggiungere, le attività che sono necessarie al raggiungimento di questi obiettivi e anche la durata progettuale sarà in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, cioè se sono tanti obiettivi, se i risultati da produrre sono tanti e corposi, allora la durata progettuale sarà quanto più ampia possibile, quindi fino ad un massimo di 36 mesi. Invece se gli obiettivi sono più minimi, se i risultati che si vogliono raggiungere sono sempre un numero limitato e di qualità diciamo non una cosa eccessiva come può essere un progetto portato avanti da enti di ricerca che avranno invece obiettivi e risultati quanto più importanti, se invece si hanno risultati più piccoli e obiettivi più ridotti, allora il progetto sarà più breve nella durata e la richiesta della LAMSAM sarà o 120.000 se è adatta a quel tipo di obiettivi e risultati, oppure più alta se si ritiene che la LAMSAM di 120.000 euro per un progetto di 22 mesi sia troppo ridotta e allora si penserà che la LAMSAM facendo tutti i calcoli, come ho detto prima, tenendo conto di costi realistici, quanto più realistici possibili, allora si potrà scrivere che è proprio motivare e dimostrare che per un progetto di 22 mesi, per esempio per raggiungere quegli obiettivi che sono previsti in 22 mesi ci vuole una LAMSAM di 250.000 euro, ora faccio i casi un po' estremi tanto per farvi capire che non è che la LAMSAM va in base al numero dei mesi, non c'è scritto che un progetto da 36.000 euro deve avere una LAMSAM di 400.000 euro, un progetto di 36 mesi può essere anche un progetto con una LAMSAM da 250.000 euro, perché gli obiettivi e i risultati sono a tutto fondo facendo i calcoli nelle attività che si vogliono realizzare si rientra bene in una LAMSAM di 250.000 euro e così vale per un progetto di 22 mesi, un progetto di 22 mesi deve scegliere la sua LAMSAM che deve essere o 120.000, nemmeno né di più, o 120.000, o 250.000 netti, nemmeno né di più, o 400.000, nemmeno né di più. Questo lo dovete scegliere per una qualsiasi durata progettuale e la dovete fare in maniera, calcolando in maniera, in base alle attività, quello che dovete appunto realizzare. Bene, io penso più o meno di aver risposto a tutto e direi che, Laura, se vuoi chiudere... Sì, eccomi. Ok. Io saluto tutti, scusate, ma cercavo di orientarmi se avevo risposto a tutte le domande. Saluto tutti, grazie. Una bella carrellata di risposte, grazie. Poi, ovviamente, come mi hanno detto le colleghe, per eventuali altri dubbi, scrivete una mail e saranno loro a rispondervi individualmente su questioni, diciamo, un po' più specifiche. Vi ringrazio per la partecipazione a questo evento. Speriamo di avervi dato gli input giusti per poter iniziare a preparare, a portare avanti la vostra candidatura. Volevo ricordare anche in occasione di una domanda che ho visto, alla quale è stata risposta, giustamente, che questi sono progetti che non devono essere focalizzati sulle mobilità. Rispetto soprattutto alla vecchia programmazione, il vecchio programma, adesso la mobilità, se si vuole dare il focus alla mobilità, che è veramente importante nell'ambito degli obiettivi europei per lo spazio europeo, però ecco, lo spazio giusto per promuovere, per, diciamo, sfruttare tutti i vantaggi che la mobilità offre, sia dello staff che degli alunni, l'azione chiave 1 è il posto ideale per fare questo adesso. I partenariati dell'azione chiave 2, c'è la mobilità, giustamente, ma, come dicevano le colleghe, si tratta di attività di mobilità che non devono essere fulcro del progetto, ma, diciamo, strumentali alla realizzazione degli obiettivi del progetto, quindi, diciamo, mobilità per incontri tecnici, mobilità per formazione, ma sempre strumentali al raggiungimento degli obiettivi delle attività del progetto. Quindi, questa è una precisazione che ci tengo a farla, perché, soprattutto, chi è abituato al vecchio programma 2014-2020 può essere tratto in inganno. I partenariati non sono più il luogo dove si svolge la mobilità, soprattutto degli studenti e degli alunni. Quindi, grazie a tutti, ancora grazie ai colleghi e all'ufficio eventi, ai tecnici che ci hanno supportato qui in piattaforma, e a presto, spero, con i vostri progetti. Arrivederci e grazie a tutti.